Il diacono, come il Signore Gesù, è un servo, servo di Dio e servo degli uomini. Ora la caratteristica del servo è precisamente di sapersi spendere in maniera gratuita, in maniera dunque generosa, disinteressata. In questo senso la richiesta che io ho fatto ai diaconi in realtà è una consegna che a tutti, a ciascuno di noi, ci è stata data con il battesimo. Il battesimo rendendoci immagine viva di Gesù Cristo ci ha chiesto di interpretare la nostra vita quotidiana nelle piccole e nelle grandi cose proprio con questo stile diaconale, lo stile del servizio, dove donandosi agli altri la persona esalta al massimo la sua libertà ed è fedele in una maniera davvero singolare alla sua dignità.